Buonasera, buona serata e buona cena ragazzi. Io adesso vi farei mostrare come l'uomo di casa farebbe apparecchiare la tavola. Intanto prendiamo i piatti, tre piatti, tre piatti pari e poi chiediamo questa. Tre piatti pari, poi li mettiamo nel tavolo. Spostiamo le sedie. Spostiamo il tavolo. Esattamente, prima mettiamo le tovagliette. Se ce l'avete mettetele, se no fate con la tovaglia. Dovagliette, poi sopra i piatti pari. Esatto. E poi adesso prendiamo i tovaglioli che sono lì. Guardate, qua ci sono i tovaglioli. Ne prendiamo tre. Uno, uno, che lo mettiamo nel tavolo. E l'altro. Dopo vi faccio vedere nel termine dell'apparecchiare. Ne prendo altri due. Uno, uno, e due. E questi sono i tovaglioli. Poi prendiamo le posate. Forchetta, coltello. Tre forchette. Con tre coltelli. E poi ragazzi, mi raccomando, condividete e iscrivetevi. E mi raccomando. E adesso, prendiamo i bicchieri. Ovviamente tre. Oppure, se non ce l'avete lì, dove vi ho fatto vedere, prendete gli altri bicchieri, se volete. Oppure anche delle tazze, volendo. Delle tazze. Guardate che tazze. Guardate le tazze. Venite, venite a vedere le tazze come bicchieri. Venite, venite. Ecco le tazze. La tazza con la foto di mio nipote, Lorenzo. La tazza con la mia amica. La tazza con la mia amica. Poi, prendiamo un'altra tazza. della croce blu. E poi, prendiamo il bere. Ovviamente, acqua naturale o acqua frizzante. Apriamo il frigo. Acqua naturale. Acqua naturale. Acqua naturale. E poi... E poi... E' una bottiglia. Di una cosa buona. Di un vino, ma poco a poco. E poi, volendo... Acqua frizzante. Ok, ragazzi. Queste sono... Le calamite. Vedete? E adesso vi faccio vedere. Questa è la tavola apparecchiata. E mi raccomando, ragazzi. Condividete e iscrivetevi numerosi. Ciao. Un grande bacio. E un grande, caloroso, forte abbraccio a tutti voi. E buon appetito. Ciao. Del vostro rapper, del vostro rapper preferito. Baccio. Ciao. E manacerata. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito.